Grafica che ci racconta la formazione della Cremonese. Si schierano con 3-5-2, centrocampo dunque particolarmente folto, fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Modulo adottato da parecchie squadre ultimamente, Pierre capace di garantire solidità in mezzo al campo, ma anche i due esterni all'occorrenza possono abbassarsi per dare una mano in difesa. Possiamo vedere in grafica le scelte del tecnico blu cerchiato per questa sfida. Decidono di insistere con uno schieramento molto conservativo, qualcuno lo definisce troppo rinunciatario, magari anche qualche tifoso vorrebbe vedere una squadra maggiormente votata allo spettacolo. La filosofia di calcio del tecnico è questa, Pierre. Partire col freno a mano tirato, poi le cose potranno cambiare.